Ben tornati a tutti. Oggi è venerdì, 1 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Questioni pratiche sul tavolo. Sotto la luce dei riflettori affari e finanze, senza appoggi, però, vi sentite insicuri, vi occorre una voce amica pronta a incoraggiarvi e ad annullare le vostre perplessità. Probabilmente per tappare falle emotive avete speso più del dovuto, ma invece che prendervela con voi stessi incolpate la matematica e i numeri. Trattative rese scivolose dai dubbi di un interlocutore indeciso se proseguire o no, non mollate, la luna e Nettuno acquatici, buoni amici del vostro inquilino urrano, vi garantiscono un intuito insolito per il vostro temperamento di norma pragmatico. Una volta tanto fidatevi delle vostre antenne, con la certezza di fare centro. Un sogno d'amore si realizza e una coppia va in porto, il destino compie il suo percorso e aiuta i partner a concretizzare un rapporto o a coronare un sogno d'amore. Spesso annuncia una gioia in merito a un figlio in arrivo. I single beneficeranno di un periodo positivo incontrando persone generose ed altruiste che potrebbero fare la loro felicità. Siete davvero in crisi, tuttavia avete le energie necessarie per risalire la china e risolvere i vostri problemi. Un incontro imprevisto si delinea all'orizzonte. State diventando troppo gelosi, con il tempo ne potreste pagare le conseguenze e pentirvene. State rischiando troppo in amore e siete particolarmente distratti, vi potrebbe capitare anche di perdere qualcosa di importante, come le chiavi di casa, o dell'auto o la vostra carta di credito. Ricordate che la testa c'è quando è sulle spalle, in tutti i sensi. Oggi cercate di essere puntuali e di fare tutto, ma proprio tutto, per esserlo. Potreste arrivare tardi ad un appuntamento che vi sta a cuore. Non distraitevi soprattutto quando guidate, oggi la prudenza deve essere più del solito. Una vecchia conoscenza torna a farsi vivo, è proprio vero, a volte ritornano. Vantaggi dallo scrivere. Bene cambiamenti, viaggi, riunioni mondane. Oggi potrai guadagnare più denaro del solito se ti darai da fare. Non lamentatevi sempre di tutto, fate in modo che gli altri non si accorgano del vostro disagio e soprattutto che non abbiano a criticarvi per il vostro troppo lamentarvi. Siate ottimisti e aperti alla speranza, se gli amici vi deludono nulla vieta che ve ne facciate altri meno interessati. Vi sentirete in ottima forma fisica e mentale oggi, pronti per partire alla carica in ogni direzione. Ci è qualcuno che attende con ansia un vostro gesto, una risposta, un invito, insomma qualcosa che gli faccia capire che ci tenete, almeno un pochino. Il vostro fascino in questa giornata è sicuramente molto più coinvolgente che negli altri giorni nel corso di questa settimana. Vi sentite ispirati a iniziare una storia d'amore ancora non ben definita, che in pochi giorni potrebbe diventare una relazione passionale, ma non senza rischi. I due pianeti superlenti, Plutone e Nettuno, vi danno manforte dai due segni per voi molto amici, capricorno e pesci. E i moti celesti sono segnati da aspetti strepitosi per voi toro. Non ultimo dalla luna che vi guarda benevola dal segno del cancro. Urano oggi dinamizza con un sestile positivo la luna cancerina, attaccata al passato e alla tradizione. Uno splendido mix, dunque, per affrontare al meglio gli eventi e le mode del presente, senza critiche o eccessive nostalgie, ma anche senza attaccamento, quel che oggi è un must e domani sarà cambiato. Ed è giusto così, il cambiamento è vita e il vostro inquilino ormai da cinque anni ve lo ha insegnato, la trasformazione fa parte della vita e bisogna imparare ad accettarla. Amore ed Eros. La vostra serenità contagia anche il partner, poche parole bastano a condividere pensieri ed emozioni. Sintonia anche con gli amici, aiutando chi è in crisi aiutate anche voi stessi. Un'aria nuova sta invadendo la vostra vita emotiva, sappiate aprire porte e finestre del vostro cuore per farla entrare. Successi per i singli in cerca di avventure, specie se nascano in aprile. I vostri rapporti sentimentali sono favoriti dalla forza creativa, dal desiderio di imprimere una metamorfosi e da un senso di miglioramento delle condizioni della vostra coppia in generale. Questo, in special modo, se siete nati nel mese di maggio. Lavoro e denaro. L'ambiente professionale armonico migliora la resa, coi colleghi formate una squadra unita, a riparo da invidia e rivalità, collaborando il traguardo si fa più vicino. Intuito e perspicacia facilitano le trattative, nelle interrogazioni poi siete telepatici, captando la domanda prima che venga formulata. Nonostante il parterre planetario dei dieci corpi celesti conosciuti, è tutto dalla vostra parte, avvertite una fase di stanchezza in ufficio, forse dovuta a qualche inciampo tecnico, meccanico, possibile anche a causa degli strumenti che usate sul posto di lavoro e che potrebbe, sia pur indirettamente, avervi interessato, intasando per così dire, l'attività odierna. Dovete avere un po' di pazienza, dunque. Pazienza, va riconosciuto, che sempre è al vostro fianco e vi fa il segno più solido dello zodiaco. Benessere. Quando lo spirito è sereno anche il corpo sta bene, l'elemento acqua contribuisce a mantenervi in salute. Bevetene molta anche se la stagione fredda non dà la sensazione di sete e se non potete recarvi alle terme organizzatevi momenti di relax serali nella vasca da bagno con oli profumanti e sale antistress. I colori e i cristalli più azzeccati, bianco, verde acqua, quarzo e adularia. Denaro. Con tutto l'olimpo planetario che vi guarda sorridente potete essere proprio voi tra i fortunati possessori di un biglietto della lotteria o tra quelli che dovinano la fatale combinazione numerica giusta per centrare la vincita al superenalotto. Per lei, per superare un colloquio o una prova d'esame, non vi rimane che legarvi alla sedia, troppe distrazioni vi hanno fatto perdere tempo prezioso. Urge accelerare. Per lui, provvidenziale rientro di una somma da non sperperare subito un'altra volta in acquisti o prestiti senza ritorno. Colore delle emozioni, verde mare. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.